Università di Trento sugli scudi, le statistiche del Censis incoronano l'Ateneo Trentino come il più aperto in Italia all'internazionalizzazione. È stato un obiettivo della piccola sede universitaria di Trento nata con la Facoltà di Sociologia e per volontà di Bruno Kessler quasi 50 anni fa. È stato un punto d'orgoglio di grande lungimiranza di rettori come Paolo Prodi, Ferrari, Zuelli, Egidi e Bassi. Oggi Università Trentina che conta 7 facoltà e oltre 15.000 studenti nelle classifiche del Censis riportate dal quotidiano La Repubblica e prima in internazionalizzazione. Un primato che nasce dalla combinazione di alcuni parametri. I più importanti? Il 30% dei dottorandi a Trento viene dall'estero, un terzo dell'offerta formativa dell'Ateneo avviene in lingua straniera. Ora che internazionalizzare, è obbligo previsto dalla legge Gelmini, l'Università di Trento trae i frutti di tanta lungimiranza. Costa tanto internazionalizzare un Ateneo in termini economici? Costa perché ovviamente, per darle soltanto un dato, quando i nostri studenti di dottorato in questo caso vanno all'estero e magari in paesi come gli Stati Uniti o il Canada dove la vita costa molto di più, ovviamente l'Ateneo investe anche in termini economici. Però forse è una scelta più difficile sul piano culturale. Noi ci siamo riusciti. Una sfida difficile anche perché Trento non è una grande città e quello trentino non è un Ateneo dalle grandi tradizioni che affondano nel Medioevo come Bologna o Padova. Quindi su che cosa si deve puntare? Questo è vero, però questo può essere un limite e da un altro punto di vista può essere un vantaggio. Nel senso che un'università più piccolina, giovane, con professori giovani, non ha quelle incrostazioni, quelle dimensioni elefantiache che derivano, come dice lei, dalla tradizione e dal fatto di essere grandi anche dal punto di vista numerico. Questo offre qualche vantaggio alla nostra università e noi cerchiamo di cogliere proprio questo.